...eseguito da un robot vero, questo non mi seguita, ok? Ci proviamo? Proviamo, cioè mettiamo la sabbia nel contenitore. Potrebbe anche essere un po' né? Mettiamo qua. Adesso si è mandato a una batteria che funziona. E funziona troppo. E qualcuno non avesse staccato l'elica. E qualcuno piccolo, di qualche 5, di 6, 7 anni, non avesse staccato l'elica. Ehi, adesso questo qua, perché... No, significa che se non riusciamo a rimettere l'elica dobbiamo aspettare qualche minuto per essere fissata con la colla a calma. Però io non la voglio fissare. Stai un po' lontano perché si schizza l'elica. Nel caso la fissiamo con la colla a calma, dai. Ma un po' piano perché è fissata questa testa. Non sai che ti possiamo mettere un peso inferiore? Vabbè, lo spossiamo qua. Quello che disegna è imprevedibile. Non lo sappiamo. Purtroppo qui ce la piega, quindi... E questo qua, lui, secondo me, non ce la fa a fare quel lavoro. Vediamo un po'. Fa troppo veloce, lo insegue. Aspettiamo che fa una riga un po' più lunga. Ma... 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 ... ... E lì c'è la...